Umberto e Cristina sono due nostalgici comunisti, ma collaboratori dei servizi segreti russi. Si erano compromessi negli anni del conflitto della ex Jugoslavia, quando si schierarono al fianco dell'armata jugoslava, formata in maggioranza da soldati serbi, per poi seguire le vicende tragiche della guerra e rimanere legati, molti anni dopo, alle sorti degli ultras della Zervena Svezda di Belgrado, mantenendo contatti con il loro capo, Ivan Bogdanov. Katia Yellen, essendo stata da giovane filosovietica, dopo la dissoluzione dell'URSS, aveva optato per il crescente nazionalismo panrusso, bene interpretato dalla linea politica del partito nazional bolshevico di Savenco, soprannominato Limonov. Anche lei ha svolto un ruolo di informatrice, ma per conto di Gennady Timchenko, un potentissimo magnate russo con interessi nella vendita delle armi, che hanno un punto di passaggio proprio attraverso la ex cortina di ferro. Su di loro ha indagato e li ha sorvegliati Rossella Diamant, agente dei servizi militari italiani, sotto la copertura di animatrice delle escursioni naturalistiche del Foliag, attività che le ha permesso di girare liberamente nel territorio montano. Quando Bogdanov veniva in Italia, per organizzare i suoi loschi traffici, alloggiava alla capanna Edelweiss, dove ha avuto modo di accordarsi con i gestori, i quali assecondavano il traffico di armi che venivano nascoste nei pullman dei tifosi serbi, quando si trovavano in trasferta in Italia. Timchenko, invece, si serviva di Katia Jelen e dei Passer per operare il suo traffico parallelo. Le due organizzazioni, in concorrenza tra loro, avevano costretto la Diamant ad esporsi e così a rimanere intrappolata tra le due rivalità, rischiando la pelle e il fallimento della sua attività di intelligence. Proprio durante una escursione di Foliag, le due donne si erano incrociate e reciprocamente smascherate, anche se sottilmente e non apertamente. Lungo un sentiero, Rossella Diamant aveva sentito Katia Jelen parlare al telefono e Katia si era accorta della presenza dell'altra. Quindi aveva capito di essere spiata.